A una dimensione personale del rifiuto si associa così inevitabilmente una dimensione sociale, una cultura che rigetta l'altro, recide i legami più intimi e veri, finendo per sciogliere e disgregare tutta quanta la società e per generare violenza e morte. Ne abbiamo una triste ecco in numerosi fatti della cronaca quotidiana, non ultima la tragica strage avvenuta a Parigi alcuni giorni fa. Nel sollecitare la comunità internazionale a non essere indifferente davanti a tale situazione, auspico che i leader religiosi, politici e intellettuali, specialmente musulmani, condannino qualsiasi interpretazione fondamentalista ed estremista della religione, volta a giustificare tali atti di violenza. Simili forme di brutalità, che non di rado mietano vittime fra i più piccoli e i defessi, non mancano purtroppo neanche in altre parti del mondo. Penso in modo particolare alla Nigeria, dove non cessano le violenze che colpiscono indiscrinatamente la popolazione, è in continua crescita il tragico fenomeno dei sequestri di persone, sovente di giovani ragazzi rapiti per essere fatti oggetto di mercina ammonio. E' un esecrabile commercio che non può continuare. Una piaga che occorre sradicare, poiché colpisce tutti noi, dalle singole famiglie all'intera comunità mondiale. Un esempio a me molto, caro, di come il dialogo possa davvero edificare e costruire ponti, viene dalla recente decisione degli Stati Uniti di America e di Cuba di porre fine ad un silenzio reciproco durato oltre mezzo secolo e di riavvicinarsi per il bene dei rispettivi cittadini. Accolgo poi con soddisfazione la volontà degli Stati Uniti di chiudere definitivamente il carcere di Guantanamo, rilevando la generosa disponibilità di alcuni Paesi ad accogliere dei detenuti. E a questi Paesi ringrazio da cuore. Guerre o delle malattie, con questi sentimenti rinnovo a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e ai vostri popoli l'augurio di un 2015 di speranza e di pace. Grazie a tutti i nostri spettatori